Sindaco Guarente, ben 28 posizioni scalate rispetto al 2019 nell'ultima classifica sulla qualità della vita stilata dal quotidiano Italia Oggi, 41esima posizione. Sì, questo risultato ci riempie di orgoglio ma ci impone e ci spinge a lavorare sempre di più e sempre meglio anche perché abbiamo l'ambizione di arrivare tra le prime dieci città. Italia Oggi nello stilare questa classifica tiene conto di diversi aspetti come la sicurezza, la cura del verde, la gestione della pandemia. Devo dire che sicuramente hanno giocato a nostro favore la gestione della pandemia nella fase 1, l'installazione di 54 telecamere nel centro storico che ci hanno permesso di monitorare di più e meglio la città e anche di migliorare la qualità del verde. Questa classifica viene stilata sul territorio allargato che riguarda appunto una provincia però potenza ne è naturalmente il fulcro. Dall'inizio della nostra amministrazione è cercato di recuperare una serie di rapporti anche con le realtà circostanti. Ad esempio con il comune di Pignola abbiamo avviato un progetto che ci vede protagonisti nella realizzazione di una pista ciclabile che collega i due comuni. C'è bisogno di una forte sinergia anche in vista delle nuove sfide a cui sarà chiamata l'Italia tutta e il mezzogiorno in particolare come quella del recovery fund. L'ipotesi degli screening per l'intera comunità cittadina. Da questo punto di vista a livello operativo. Siamo a buon punto. Sono arrivati i primi 20.000 test rapidi che saranno somministrati ad una parte della nostra città. Contestualmente stiamo insomma avendo delle interlocuzioni con varie aziende per comprarne altre decine di migliaia per fare in modo che tutta la città possa essere sottoposta ad uno screening che ci dia un dato reale e una fotografia attuale della situazione. Il TAR si esprimerà su quello che potrebbe essere un ritorno in presenza per la didattica in ambito scolastico. Diciamo che eravamo già pronti quando sono state riaperte le scuole. Abbiamo inaugurato tra virgolette due nuove strutture, confiscato alle mafie, un altro bene è stato riconvertito in scuola. Siamo pronti qualora il TAR dovesse decidere che le scuole dovranno essere riaperte. Il Natale non sarà una festività giocoforza nella sua normalità canonica. Abbiamo installato innanzitutto le luminarie non solo nel centro storico della città ma sono in procinto di essere installate anche in altri punti. Ovviamente abbiamo pensato a qualcosa di più sobrio rispetto ai programmi iniziali ma soprattutto è opportuno più che mai dare una mano, tendere una mano all'economia locale.